A poco più di nove anni dal delitto di Perugia, l'omicidio di Meredith Gercher torna in tribunale. Domani la Corte di Appello di Firenze comincerà ad esaminare la richiesta di revisione del processo avanzata da Rudy Guedè, unico condannato per quel delitto. Livoriano, che a Viterbo sta scontando 16 anni di reclusione, chiede ora di essere assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Gli avvocati che lo difendono, Tommaso Pietro Carlo e Monica Grossi, puntano a far riaprire il processo ritenendo che ci sia un conflitto di giudicati con la sentenza che ha definitivamente assolto l'americana Amanda Knox e il pugliese Raffaele Sollecito. L'ingegnere di Giovinazzo ha chiesto un risarcimento di 516 mila euro per ingiusta detenzione, sul quale i giudici di Firenze dovranno esprimersi a gennaio. La condanna di Guedè, processato con rito abbreviato, è compatibile con l'assoluzione di Sollecito e Nox giudicati invece con rito ordinario? Questa la sostanza della richiesta di revisione. Nell'udienza di domani il Collegio esaminerà questioni procedurali relative ai documenti da esaminare, per stabilire se la domanda dell'Ivoriano sia ammissibile. Se anche il processo di revisione dovesse essere ammesso dalla Corte d'Appello di Firenze, non ci saranno testimoni o consulenti da ascoltare. Tutto si svolgerà poi in Camera di Consiglio, alla presenza delle sole parti interessate, ma senza pubblico e senza stampa. Guedè ha già confermato la sua presenza in aula, mentre per la famiglia della vittima ci saranno gli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna, secondo i quali mancano del tutto i presupposti per la revisione del processo.